un cordiale saluto a tutti benvenuti alla rassegna stampa il commento la stampa del giorno qui su fanno tv siamo all'11 settembre una data che difficilmente possiamo dimenticare 11 settembre il crollo delle torri gemelle a new york stati uniti oggi molti giornali tutti i giornali ricordano questo triste anniversario iniziamo dal santo del giorno vediamolo subito il santo di oggi anzi santi proto e giacinto il sole è sorto alle 6 42 e tramonterà 19 28 minuti uno sguardo veloce al tempo con il sito della protezione civile delle marche per oggi cielo parzialmente nuvoloso con qualche addensamento nelle zone montane durante le ore più calde della giornata non si escludono piovaschi pomeridiani nel settore montano meridionale quindi sui sibillini come più o meno negli ultimi giorni sta accadendo domenica 12 di settembre ancora cielo sereno poco nuvoloso su tutta la nostra regione cielo sereno anche lunedì 13 settembre un peggioramento lo avremo soltanto nella giornata di giovedì ma di questo ne parleremo la prossima settimana intanto andiamo a salutare per il nostro ultimo collegamento Enzo Monachesi che si trova alla spiaggia alla sua spiaggia di Velluto a Senigallia buongiorno Enzo buongiorno a tutti buongiorno allora questa mattina comincio con un buon caffè insomma un buon caffè sei lì al tuo angolo drink love eat non solo anche una pastarella ci sta certo una bella pastarella ci sta allora abbiamo detto adesso durante le previsioni del tempo che insomma questa settimana il fine settimana sarà un sarà buono quindi per voi che ancora siete lì in riva al mare a gestire gli ultimi bagnanti insomma è una buona notizia sì aspettiamo insomma gli ultimi turisti gli ultimi appassionati del mare faremo sicuramente questo ultimo periodo con il bel tempo che diciamo sono gli ingredienti quelli giusti per stare insieme bene al mare allora voglio far vedere ai nostri telespettatori la fotografia di gruppo che tu hai scattato con il tuo staff eccolo qua allora ci puoi descrivere velocemente chi sono insomma linea di massima intanto se ci sono familiari questi sono tutti sì ci sono le mie due figlie c'è mia moglie che lavorano con me da sempre perché le figlie praticamente sono nate nello stabilimento quindi hanno il nostro lavoro e la spiaggia nel dna e gli altri sono tutti sprenditi ragazzi che lavorano con noi tutti studenti tutti ragazzi stupendi vorrei vorrei proprio sottolineare questo fatto che i ragazzi di oggi non sono sempre così come si descrivono ma sono spesso molto meglio quindi io sono un uomo fortunato un imprenditore fortunato ho trovato sempre ragazzi volenterosi con la voglia di imparare la voglia di condividere un'esperienza quindi non è vero che non c'è gente che vuole lavorare giovani che non hanno voglia di lavorare ci sono ma no ci sono basta metterli nelle condizioni giuste per accettare il lavoro certo non sono stupidi i giovani quindi le condizioni devono essere condizioni corrette certo allora intanto grazie Enzo per questo per questa settimana che abbiamo trascorso insieme tante belle cose a te alla tua famiglia e a tutti i tuoi colleghi quindi chiaramente ci ritroveremo il prossimo anno se vorrai ok grazie grazie per avermi ospitato grazie mille buona giornata buona giornata a te e ai tuoi ospiti allora adesso i giornali come sempre andiamo e partiamo dal Carlino di Pesaro il titolo rischia cinque anni di carcere per due euro Colli al Metauro trentenne ruba una saponetta al supermercato ma viene accusata di tentata rapina a centropagini invece la fiera parte con le multe subito due sanzionati perché non avevano il green pass e non avevano la mascherina Berloni si apre uno spiraglio attesa un'offerta entro pochi giorni ma questa è l'ultima spiaggia l'allarme di Confindustria caro energia la bolletta della luce per certe aziende sarà la tempesta perfetta gli aumenti saranno devastanti poi il punto di Filisetti il capo della scuola marchigiana scuola al via siamo pronti già coperte 30.000 cattedre poi il tempio della moto d'epoca museo Benelli da Roma arrivano 2 milioni di euro morti alla profilglas paci condannato pena di 15 mesi e multa pesante Urbino arrestato uno stalker dammi 3.000 euro oppure ti uccido a sassate questi sono i titoli nella prima pagina del Carlino di Pesaro andiamo a vedere quelli invece del Carlino del Corriere scusate fiera stanati furbetti del pass stanati furbetti del pass guardate che violenza che c'è in questo titolo non so se ormai vi siete anche voi a suoi fatti ormai non ci facciamo più neanche caso a questi titoli che sono di una violenza terribile stanati furbetti del pass poi se andiamo a vedere il vocabolario il dizionario di questa nostra bellissima lingua italiana vi accorgerete che sono tutte parole che non centrano niente in questo contesto stanati furbetti del pass parliamo della fiera di Pesaro nella giornata del debutto sono stati oltre 600 i controlli a campione sanzionato un 45enne le verifiche anche oggi e domani atteso il camper vaccinale per intercettare gli indecisi ora io mi domando se questa è una fiera dove io mi ricordo che si andava per fare qualche acquisto una passeggiata eccetera oppure non so che cos'altro è perché presentata così non sembra nemmeno di parlare di una fiera di un mercato dove si va a passare qualche momento un po' di spensieratezza per fare qualche regalino qualche pensierino qualche oggettino gadget che dura due giorni poi loro si mette nel cassetto sono quelle cose che si facevano una volta non esiste più parliamo di un qualcosa che non lo so nemmeno come descrivere perché parliamo di controlli a campione 600 controlli a campione sanzionato un 45enne le verifiche oggi e domani ma è una guerra o è un mercato dove si può andare a fare la spesa cioè delle cose veramente aberranti però io mi meraviglio che la gente continui ad accettare tutto questo e non a protestare però sono forse uno dei pochi che continuo a farlo due morti condannati pace e profili questa invece è la fotonotizia del Corriere Adriatico di oggi sanzioni per 1 milione e 400 mila euro e 15 mesi di carcere poi in regione addio allo smart working ormai sappiamo bene che lo smart working è il lavoro da casa entro la fine dell'anno si torna tutti in ufficio poi gli negano un colloquio detenuto si infuria a Villa Fastigia Pesero un sacerdote il cappellano del carcere lo blocca sparisce un portafoglio ma un video su whatsapp fa trovare il ladro poi sicurezza l'assessore per i baby vandali a Pesero sempre i baby vandali non solo telecamere e poi sotto baia stop alla sosta selvaggia stiamo parlando della baia Flaminia sempre quindi a Pesero i bivacchi però restano troppi il sindaco prosegue con il piano di valorizzazione nuovi servizi inaugurati poi la VL che invece è stata sconfitta a Brindisi 80-68 oggi il Tartu e poi a casa partiamo da questa notizia che anche qua insomma pare esagerata poi un furto è sempre un furto e va condannato ma comunque ruba una saponetta il titolo dal Carlino di Pesero rischia 5 anni di carcere ha rubato una saponetta al supermercato il valore 1 euro e 79 centesimi pensava di riuscire ad oltrapassare la cassa indenne ma l'hanno bloccata e lei ha reagito da qui il reato di rapina se stava ferma probabilmente era tranquilla ma reagendo in quel modo scatta il reato di rapina era il novembre del 2019 adesso con questa denuncia insomma questa trentenne di colli al metauro già nota per fatti simili scrive il giornale ora rischia in ipotesi 5 anni di carcere per quella saponetta rubata tenuto conto dei suoi precedenti che mal si addicono alla concessione di attenuanti sotto invece portafogli sparito alla cassa ladro in trappola la sinergia tra telecamere, polizia e guardie giurate fa rintracciare l'uomo in un lampo ed è stato quindi denunciato paga la spesa alla cassa del supermercato Ipercop ma lascia il portafogli lì e non se ne accorge fino a quando non rientra a casa così la cliente torna di corsa al supermercato per cercare il suo portafogli ma non lo trova più chiama il vigilantes, la polizia in base alle immagini delle telecamere puntate sulle casse si scopre che un pregiudicato fanese gravitante su Pesaro ha visto e afferrato il portafoglio dileguandosi in fretta al posto di consegnarlo alla cassa dire guardate qualcuno qui ha lasciato un portafoglio e questo l'ha preso e l'ha portato via dammi 3.000 euro oppure ti uccido a pietrate qui siamo sulla cronaca di Urbino arrestato un 35enne marocchino di Fossombrone che aveva lanciato minacce gravissime ad una connazionale latitante da un mese la procura di Urbino interrogata la vittima ha chiesto al GIP la cattura dell'uomo che nel frattempo però era fuggito in Francia morti alla Profinglas condannato Paci 15 mesi di reclusione pena sospesa sanzioni per un milione e mezzo le due famiglie erano già state risarcite dunque il patron della Profinglas è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo per le morti sul lavoro di due suoi dipendenti avvenute nel marzo e giugno del 2017 assolto dall'accusa di aver omesso le misure di sicurezza nel caso della morte del dipendente travolto da un carico ieri il GUP Antonella Marrone del Tribunale di Pesero ha condannato l'imprenditore Fanese a 15 mesi di reclusione pena sospesa e non menzione oltre al pagamento come azienda di 1.448.593 euro complessivi di sanzioni e confische per non avere adeguato le misure di sicurezza nell'ambiente di lavoro poi da Marotta invece mio giro di vita del Comune ma così è come condannarci imporci di chiudere a luna di notte tenuto conto che i nostri clienti parliamo della discoteca dove qualche settimana fa c'è stata quella rissa tremenda tra bande insomma adesso c'è questo quest'obbligo di chiudere a luna di notte e i gestori dicono insomma farci chiudere a luna di notte per una discoteca è come condannarci a chiudere definitivamente andiamo sulla cronaca di Ancona velocemente queste sono le foto vi abbiamo fatto vedere anche ieri sera nel telegiornale porto un'auto si sfrene dal molo finisce in mare verifiche dei sub negative su eventuali persone rimaste a bordo è stata recuperata e riportata in superficie con la gru dei vigili del fuoco era finita sul fondale mentre restando sempre ad Ancona passetto cade e sbatte la testa davanti alle grotte un sessantenne è stato caricato e trasportato via mare fino al porto dove poi è stato condotto in ospedale mentre qua sotto l'uomo che dormiva in strada lo vedete in questa fotografia ha trovato a dormire in strada di notte in piena città un uomo fotografato da alcuni residenti nei pressi della questura e poi la vicenda ricorderete di Claudio Pinti Claudio Pinti è il 38enne accusato di aver contagiato la sua ex compagna Giovanna Gorini e la ex fidanzata Romina Scaloni alle quali avrebbe nascosto di essere siero positivo e ieri mattina la corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa di Claudio Pinti e quindi è tornato in carcere a Monte Acuto rinviata il 15 di dicembre la decisione definitiva andiamo adesso invece sulla pagina della Val Cesano da San Lorenzo in campo rischiamo di restare senza medico sono parole del sindaco Davide Dell'Onti questa sanità adesso è da ripensare il sindaco Dell'Onti vicepresidente di Area Vasta rilancia la visione policentrica del patto di piagge c'è bisogno di servizi decentrati sul territorio l'emergenza urgenza è decisiva su dove vivere mentre da Fano il resto del cardino l'apertura è sul sul sentiero dell'Arzilla a noi piace così com'è cittadini in pista contro il progetto di riqualificazione del comune che prevede il taglio di 33 alberi e il rifacimento del percorso con asfalto ecologico e poi c'è stato ieri il taglio del nastro sempre a Fano del Brodetto Fest tra bellezza e contaminazioni al Brodetto Fest la Capua e Iro sono i due ospiti illustri che sono in programma che ci sono insomma in questi giorni di Brodetto Fest sono iniziative che proseguiranno ancora nei prossimi giorni allora adesso invece apriamo la pagina della della pandemia dobbiamo andare di corso anzi mi sa che mi sa che abbiamo finito che dici dobbiamo è un minuto allora facciamo così la verità la cappa di silenzio sui dati fa quasi più danni del covid Pfizer chiede l'ok alle dosi per le dosi tra i 5 5 e 11 anni ma vaccinare i piccoli non ha senso tutti zitti invece sulle reazioni avverse però raddoppiano le morti correlabili secondo AIFA alle iniezioni vogliono l'obbligo che non ferma né contagi né decessi abbiamo un problema di diritto all'informazione e poi il popolo dei no green pass sciopera il primo giorno questa è una notizia interessante sindacati ANIEF e SISA dicono no agli obblighi ripensare le strategie antivirus classi pollaio stessa situazione dell'anno scorso ostacolo a salute e didattica dunque sciopero nel primo giorno di scuola un fatto che non ha precedenti a memoria Duomo e le adesioni sarebbero importanti green pass mascherine alla fiera di San Nicola spuntano due ribelli scattano le multe e poi la carta verde però penalizza la prima giornata che è una giornata ovviamente fiacca e vi ricordo due iniziative sul green pass oggi alle 18 sabato 11 piazzale Europa Baia Flaminia a Pesaro no al green pass e c'è anche un video inedito della dottoressa Barbara Balanzoni oppure per quelli che ci seguono da Ancona c'è questa manifestazione che è sempre no green pass uniti per i diritti costituzionali e questa è un sit-in apartitico in piazza Cavour un'altra iniziativa dove potete ascoltare lì non si manifestano non si buttano non si fanno reazioni violette si ascolta e si cerca di ascoltare l'altra campana né più né meno e a proposito di altre campane vi lascio con questo video fuori dalla rassegna stampa un video che è stato ripreso dall'aula della Camera dei Deputati un video di qualche giorno fa dove appunto l'onorevole e adesso mi sfugge il nome mi aiuti Sara Cunial dovrebbe essere Sara Cunial ex 5 Stelle è stata cacciata di 5 Stelle ha una posizione si è andata a vedere su internet viene presentata come il demonio ma comunque ha detto cose interessanti vi faccio ascoltare questa clip noi ci vediamo lunedì mattina grazie per averci seguito e buona giornata a tutti grazie onorevole Sardi ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Cunial grazie presidente non potete più dire che si tratta di un'emergenza perché ormai sono passati quasi due anni dall'inizio di questa isterica gestione non potete più dire che del covid non si sa niente perché esiste una letteratura molto consolidata che risale addirittura prima della cosiddetta pandemia non potete più dire che non esistono cure perché è dalla primavera del 2020 che si conoscono i rimedi ed ora anche EMA ha iniziato ad approvare i primi farmaci non potete più dire che il plasma convalescente non è una soluzione perché chi lo ha dimostrato ha pagato un prezzo troppo caro non potete più dire che il vaccino è la sola alternativa perché non è un vaccino ma una terapia sperimentale genica ed è illecito costringere gli italiani ad essere cavie non potete più dire che i vaccini non sono sperimentali perché ancora non è finita nemmeno la sperimentazione del primo vaccino autorizzato e i dati sulle reazioni avverse dimostrano l'opposto non potete più dire che sono sicuri perché non sapete cosa contengono anzi le notizie che ci pervengono dal mondo sono chiare milioni di lotti confiscati in tantissimi paesi a causa di sostanze strane anche molto pericolose non riconosciute e non riportate in etichetta non potete più dire che non si può raggiungere l'immunità di greggio senza il vaccino perché è stato dimostrato che già gran parte della popolazione è immune naturalmente senza il vaccino motivo per cui non volete che si diffondano i test sialologici anticorpali non potete più dire che non ci sono rischi della vaccinazione perché i numeri delle reazioni avverse dei dati di UK USA e Europa parlano da soli leggeteli non potete più dire che la vostra strategia è il vaccino volontario perché state obbligando tutti a farlo in modo indiretto con ricatti sociali stalking e mobbing state usando la pandemia come scusa per le riforme sociali lavorative economiche lacrime sangue che il vostro recovery richiede come riscatto non potete più dire che tutte le misure messe in atto sono solo per l'emergenza perché l'OMS ha pubblicato un paper finanziato da Bill Gates e Rockefeller Foundation sull'uso permanente ripeto permanente del passaporto vaccinale non potete più dire che ce lo chiede l'Europa perché il regolamento UE 2021-953 per bontà loro ha anche citato nello stesso decreto al considerando 36 dice è necessario evitare la discriminazione diretta e indiretta di persone che hanno scelto di non essere vaccinate frase che nel solo caso della traduzione italiana ripeto solo nel caso della traduzione italiana è stata sapientemente occultata dai ladri di verità che si divertono a sabotare i testi normativi di riferimento lo scopo del Covid pass europeo che è green solo in Italia perché evidentemente in linea con le nucleari visioni del Ministero Cingolani è quello di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei titolari notare libera non sotto ricatto all'articolo 3 dice il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio della stessa libertà di circolazione non potete più dire che rispettate la priorità delle fonti normative perché nell'accettare il compromesso a ribasso per i salivari la cui implementazione è regolamentata dalla famosa circolare del Ministero della Salute decidete che con un pizzino speranza decide la vita e la morte sociale e lavorativa economica dei cittadini italiani e di questo Paese ricordo che i salivari rapidi hanno pari efficaci e quindi anche pari errore peraltro dei nasali da tortura cinese sono totalmente sovrapponibili e quindi è solo una scelta politica non potete più raccontare la favola dell'immunizzazione che sanno raccontare così bene solo i venditori di vaccini anche qui dentro quanti colleghi tamponati o peggio vaccinati qui dentro possono dirsi immuni e quindi giurare di non essere contagiati e di non contagiare io mi posso sentire sicura se vengo in contatto con la collega plurivaccinata Lorenzina ad esempio non potete più dire che lavorate per il popolo perché in tutti i membri del CTS così come gli esperti dei salotti televisivi a cui affidate il dibattito intellettuale del paese dico tutti sono pagati dalle case farmaceutiche non potete più dire che avete un rigoroso sistema di farmacovigilanza perché abbiamo capito dall'incoerenza dei dati tra AIFA e l'Istituto Superiore Sanità che non riuscite più a reggere il palcoscenico e siete costretti a mandare in crash i diversi sistemi informatici sanitari nazionali e regionali vedi Regione Lazio non potete più dire che i vaccinati non contagiano ormai le notizie dei vaccinati contagiati e contagiosi sono all'ordine del giorno vedi Ispedale Santo Eugenio non potete più dire che è per il nostro bene perché gli italiani non sono mai stati così male non potete più dire che è una situazione normale ed è una situazione a livello mondiale perché sempre più paesi stanno azzerando le misure d'emergenza non potete più dire che siamo in democrazia perché le vostre parole e i vostri atti e con le vostre parole e i vostri atti sta sparendo ogni diritto e libertà e colpevolizzate chi esercita le libertà costituzionali e naturali non potete più parlare dell'utilità delle mascherine dopo le vostre belle foto ai vari eventi ufficiali e mondani no mask non potete più dire che i vaccini fanno bene perché i report delle autorità sanitarie mondiali che voi censurate ci dicono le cose è assolutamente la situazione assolutamente opposta cioè i casi di reazioni avverse sono milioni nel mondo e colpiscono tutti soprattutto i giovani ad esempio in Israele in cui il tasso di popolazione vaccinata è tra più alti al mondo il report ufficiale del solo aprile 2021 vi risparmio l'ultimo perché è un'ecatombe degli effetti avversi ai vaccini Pfizer riporta il programma vaccinale coincide con un incremento della mortalità del 25% nella fascia d'età 20-29 anni l'aumento di mortalità è drammatico il più 32% suggerendo che il vaccino è molto più mortale per i giovani che non per le persone più anziane c'è una stretta correlazione tra il numero di persone vaccinate e il numero di morti al giorno per ciascuna delle fasce di età il rischio di morte dopo la seconda vaccinazione è maggiore che dopo la prima aumento percentuale considerevole del 26% di tutti i problemi cardiaci delle persone al di sotto dei 40 anni con miocarditi e pericarditi alta prevalenza di emorragie danni neurologici sclettrici ai tessuti muscolari i casi di coagulopatia sono all'ordine del giorno causa di infarti ictus aborti spontanei interruzione del flusso sanguino degli arti inferiori e superiori emboli e polmonari non potete più dire che i vaccini evitano la malattia perché il dato ufficiale del ministero della salute israeliano del 13 agosto 2021 dice che l'81% dei casi gravi in ospedale sono vaccinati con due o tre dosi non potete più dire che il vaccino migliora la vita perché il documento ufficiale della sanità britannica pubblicato il 3 settembre 2021 dice che i casi della variante delta aggiornati al 29 agosto indicano 1798 morti di cui 536 non vaccinati il 30% e udite udite 1233 vaccinati cioè il 69% del totale quindi la mortalità per i vaccinati è più che doppia rispetto ai non vaccinati questa è la realtà leggeteli questi dati non potete più dire che chi muove critica la campagna vaccinale ha paura perché questi sopra sono dati ufficiali dei paesi che della vaccinazione hanno fatto sfoggio in tutto il mondo non potete più dire che un terzo degli italiani che muove critiche abbia paura del vaccino perché la paura non ha origine dai cittadini la paura è stata la chiave di chi ha gestito e continua a gestire in modo altamente discutibile l'emergenza e ricopre incarichi a livello governativo non potete più dire di essere onesti intellettualmente e non parlo tanto della maggioranza la cui parte dissidente ritirando gli emendamenti e votando contro emendamenti per diffondere salivari rapidi e test sierologici ha svelato le sue reali posizioni ma anche dell'opposizione leggo testuali parole il certificato verde segna un primo passo verso la definitiva eliminazione degli ostacoli a libero circolazione che tanto hanno danneggiato la nostra economia questo strumento deve essere implementato nel tempo più breve possibile in modo che diventi effettivo già prima dell'inizio della stagione estiva questa è la dichiarazione ufficiale del 19 marzo scorso della leader di Fratelli d'Italia che difendeva la decisione di istituire un Green Pass perché l'adozione omogenea di questa misura in tutta l'Unione Europea comporterebbe finalmente il venir meno di tutte le restrizioni fate capire per cortesia per chi lavorate perché gli italiani sono stanchi di queste prese in giro non potete più dire che il Green Pass migliorerà le nostre vite perché è lo strumento per instaurare definitivamente una dittatura politica fondata sulla paura e su eterna emergenza sanitaria non potete più dire che l'Italia è la più brava perché è solo il laboratorio storico degli esperimenti di ingegneria sociali insieme alla Francia con Draghi da una parte e Macron figli di Goldman Sachs e di Rothschild non potete più mandare il capo di questo Stato a dire che dobbiamo rinunciare alle nostre libertà e alla rivendicazione dei nostri diritti perché lo Stato siamo noi italiani e siamo pronti anche a morire per difendere i nostri diritti non potete più dire che vaccinarsi è un atto d'amore perché un atto d'amore senza consenso sotto ricatto si chiama stupro Onorevole Cugna nel pieno rispetto alla sua facoltà di dire quello che pensa la pregherei se lancia accuse di andare a rivolgersi alle autorità competenti perché lanciare accuse generiche non fanno bene all'informazione dei cittadini secondo punto sui dati altrettanto non si può dare per valore assoluto dati che non hanno una fonte citata perché non fanno altro che creare quella confusione Onorevole Cugna non può replicare al Presidente quindi la pregherei di non dare in valore assoluto dati che sono assolutamente non dimostrati ha chiesto intervenire Onorevole Trizzino